Il campione del re Sir Daniel Fortescue capeggiò le milizie durante la battaglia contro l'orda degli empidemoni. Ancora oggi il popolo canta ballate che raccontano di come guidò la carica contro la schiera maldetta, di come i demoni cadevano ai suoi piedi come spighe di fronte alla falce e di come alla fine, benché ferito a morte, annientò lo stregone. Fortescue entrò nella storia quel giorno come l'eroe di Gallo. Le sue gesta inaugurarono un periodo di pace che sarebbe durato cent'anni. Fino a quando lo stregone tornò. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.